Si è sfiorata un'altra viareggio questa notte a Rapallo, dove intorno alle 2 un treno cisterna carico di cloroformio è uscito dai binari nei pressi della stazione ferroviaria in mezzo a case e condomini. Non ci sono stati feriti né danni di rilievo, ma lo scenario è rievocato per tutti la tragica notte del 29 giugno 2009. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Il convoglio era partito dal Rosignano Marittimo ed era diretto verso Alessandria. Dopo aver verificato che il convoglio non aveva subito perdite del liquido infiammabile solo se miscelato con altre sostanze infiammabili, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Tanta la paura fra i residenti. Alcuni hanno raccontato al secolo XIX di essere corsi fuori dalle case col pensiero alle vittime di viareggio. Per il Movimento 5 Stelle della Liguria, che ha presentato un'interrogazione al governatore Toti, è stato un miracolo ad evitare una tragedia come quella del 2009. Mentre da viareggio si leva l'ennesimo grido di allarme da parte dei familiari delle 32 vittime di via Ponchielli, alla vigilia della prima udienza del processo di appello, fissata per il 13 novembre a Firenze. Fortunatamente diciamo che non ne ha convolto le persone, quindi un treno è solo deragliato, ma trasportare materiale è pericoloso. Quel treno è partito da Rosignano, ha attraversato la nostra città e poteva cadere nuovamente a Via Regge. Sembra che anche lì ci sia stato un problema a un carrello. Quindi quando ci dicono che non succedano più, che i treni non sviano, a questo punto, ma già da un po' noi non ci crediamo più, le istituzioni dovrebbero essere quelle che dovrebbero provvedere a mettere in sicurezza le ferrovie. Ma così dal 2009 ad oggi non è mai avvenuto. Dovrebbero mettere in campo le misure che ci sono già, che sono già scritte sulle carte e come emersi nel nostro processo, sono state scritte ma non vengono applicate. Grazie a tutti.